l'ora solare ben trovati buongiorno benvenuti ancora una volta qui a casa nostra vostra egli egli nostro ospite è attore non ci sono dubbi bravissimo regista non ci sono dubbi bravissimo doppiatore non ci sono dubbi bravissimo uomo d'arte non ci sono dubbi bravissimo all'anagrafe il nome farebbe giuseppe ma per tutti noi è pino pino quartullo buongiorno buongiorno ben arrivato baci da lontano pino poi vale come un abbraccio grazie grazie di essere con noi grazie di essere a voi grazie a voi mi fa piacere siamo contenti contentuni molto contenti anche in regia il nostro alessandro trese ha detto viva c'è quartullo siamo felici accidenti io e te abbiamo diretto una serata ti ricordi scusate non è per ridere in faccia all'ospite abbiamo diretto dire cioè condotto condotto una serata nel porto storico di civile per festeggiare i dieci anni del teatro comunale traiano con tanti ospiti con tanti attori che ti riguarda e ti riguardava molto da vicino sì perché ho fatto direttore artistico e devo dire tu sei stata straordinaria perché lei è arrivata senza prove e sembrava che avesse provato per settimane quindi sei una professionista ineguagliabile posso andare signora la mia settimana è fatta posso andare grazie a te no è stata una una bellissima serata come sono bellissime e grazie per le parole splendide dette tutte le serate che a teatro o quando noi decidiamo di andare al cinema vedono protagonista pino cortullo noi tra poco vi racconteremo lo spettacolo buoni da morire con la regia di emilio solfrizzi è qualcosa che ovviamente è in scena ed è un qualcosa sul quale ragionare ma ne parliamo tra poco allora pino cortullo nasce a civita vecchia appunto da ubaldo ed emma e ma questo nome tornerà bambino già diciamo propenso a essere attore ad amare ad amare diciamo che questa ossessione piccolino si è bello in carne da subito è già da piccolo quando stavo in asilo all'asilo spesso non mi trovavano e sapevano dove stavo ero sul palcoscenico delle suore e quindi ero là perché era il gioco che mi divertiva più di tutti stai sul palcoscenico fare un po il grullo come si dice in toscana il grullo e si voglio dire che questa 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 questo fuoco dentro questa capacità forse quando sei bambino non si può definire fuoco ma questa capacità ti affianca e ti accompagna anche se ovviamente papà e mamma mamma e papà dicono ma prenditi la laurea prima di laurea cosa che si dice spesso giustamente giusto e poi dopo fai quello che vuoi sperando che nel frattempo io cambiasse idea ma già facendo architettura avevo già che bello fatto un piano di studi che già era molto indirizzato verso il teatro che ho fatto scenografia ho fatto storia del teatro e la tesi laurea ho progettato un teatro appunto quindi già quindi tu stavi mandando dei messaggi a casa della serie non so se avete capito questo è e quando mi è arrivata la lettera perché ho fatto l'esame per entrare in accademia l'accademia nazionale arte drammatica come regista e alla scuola di proietti mi sono arrivate due lettere che mi hanno preso sia in accademia che al laboratorio mi mancavano ancora qualche esame per laurearmi mio padre mi ha detto bene da adesso in poi ti mantieni da solo perché come dire se adesso vuoi fare l'artista allora grande lezione ma subito responsabilizzato se le responsabilità nel senso che poi hanno continuato ad aiutarmi anche perché hanno visto le mie intenzioni erano serie ma hanno visto subito in televisione con proietti con monica vitti quindi ero subito come dire ho cominciato ma cominciato subito in un certo modo quindi hanno capito che volevo fare cosa seriamente la tua storia è quando quando la si legge la si conosce però una storia nella quale si viene trattati come la pallina del flipper no il lettore o spettatore passa e questa è tua capacità da tra proietti monica vitti andrea camilleri e queste accademie perché c'è l'accademia silvio d'amico tutti in piedi ma il laboratorio di proietti ha prodotto tanti bravissimi attori e quindi tutto tutto quello lo vivevi cioè era il tuo momento è successo questo è successo perché era quasi impossibile fare entrambe le scuole in quanto l'accademia era mattina e pomeriggio il laboratorio era pomeriggio e sera però io ho detto che avevo questa doppia scuola e quindi mi concedevano di uscire un po prima all'accademia e arrivare un po più tardi alla scuola di proietti dal bambino che non lo trovavano dalle suore sapevano dove trovarlo cioè sul palco al trovarsi di fronte a questi giganti stabilito che tu il tuo lavoro l'hai preso subito molto seriamente però io credo sempre allo stupore no che si può provare quando per la prima volta te li trovi davanti e poi sono diventati amici di famiglia tu ce lo racconterai ecco quell'istante tu come te lo ricordi beh gigi proietti ha continuato a mettermi in soggezione fino a tarda età nel senso quando stavi con lui era sempre un emozione eri sempre attento a assedurlo a accertare che appunto lui fosse fosse d'accordo su quello che stavi dicendo facendo era sempre il maestro a gigi anche con monica vitti però con gigi soprattutto era talmente un uomo stra così un uomo straordinario che ti sentivi sempre un po più in basso di quanto fosse raggiusto così stavi davanti all'everest e dicevi comunque io posso essere arrivare anche al k2 però sì sto sempre un po' e quando lui ti faceva vedere la scuola come si faceva una scena ti diceva beh non ci riuscirò mai però invece ti dava delle indicazioni molto importanti che poi ognuno coniugava su se stesso ognuno faceva poi sue però ecco lui era straordinario come direttore d'attori allora la prima volta sul set del nostro luminoso ospite ecco la regia di mario monicelli scusate restiamo sempre seduti e c'è alberto sordi protagonista il film è il marchese del grillo senti però a quel punto scusa scatta l'applauso perché voglio dire a casa a quel punto a casa o tutte le persone gli amici la gente che insomma ti conosceva fin da quando eri piccoletto così insomma ci sono momenti in cui uno dice se io volevo fare l'attore voglio fare l'attore salve sono alberto sordi nel marchese del grillo diretto da mario monicelli sai quando fai un film non sai che stai facendo che film stai facendo no perché se ne fanno tanti dopo che è uscito il film e con gli anni il marchese grillo si è sempre più staccato rispetto a tantissimi altri film anche dello stesso sordi perché è un film straordinario incredibile riuscitissimo e avere avuto il privilegio di il mio primo giorno d'attore sul set con Alberto sordi è stato anche quello un bel momento della mia vita e io chiederò a pino quartullo tra poco chi sei che ci fai qua volete diventata maleducata no c'è un motivo un motivo mettete l'asterisco sul marchese del grillo pino quartullo non ha bisogno di asterisco e qui per noi a tra poco ho studiato studiato giuseppe quartullo detto pino pino quartullo l'attore con la maiuscola eravamo rimasti a quella primo film il marchese del grillo regia di mario monicelli con alberto sordi e tu sei sul set le guardie erano tutti in costume perché era inizio ottocento e mi si avvicina alberto sordi io stavo per chi facevo aveva organizzato con le altre guardie delle corse delle rane facciamo correre le rane puntavamo sulle rane perché alberto sordi e mi dice che sta a fa qua io veramente stavo in costume sono che sta a fa qua e ha ripetuto la domanda facendomi capire che non era alberto sordi mi chiedeva ma era la prima battuta del dialogo che avremmo dovuto fare per cui mi sono un attimo assestato e ho risposto e siamo andati che carino però la prima risposta era ma sto qua facciano che mi ha detto salve sono alberto sordi tanto sapeva che tanto sia esatto che non fa qua però tu carinamente stavi rispondendo davvero scusa non da da se anche mi sentivo in colpa anche per le rane poverine allora allora abbiamo abbiamo visto abbiamo visto poco fa ma la rimettiamo sempre perché sono la foto con gg proietti no ogni volta che pensiamo a proietti se siamo qui che diciamo noi pubblico il giorno del mio matrimonio questa è una foto tanto bella e tanto cara perché gg è stato il mio testimone di nozze quindi era il momento in cui siamo usciti dalla chiesa e avere testimone di nozze quella quell'uomo immenso che tu hai detto mi ha messo in soggezione fino ai l'hai definita tarda età ecco trovarsi quest'uomo così bello buono caro amante quell'uomo che diceva insegnava a tutti voi fate gruppo e che non disdegnava di fare gruppo con le persone con le quali chiaramente si era affezionato ecco che regalo è stato è stata sempre divertente ma anche quando spesso tu lavori e fare le prove con regista magari è anche una sofferenza perché a volte per stimolarti ti trattano male ti dicono delle cose spiacevoli e invece lui no con lui era sempre un gioco molto serio ma sempre divertente ci siamo sempre divertiti tantissimo come dicevi tu ecco lui ci ha consigliato di fare gruppo infatti poi ho fatto un gruppo con i miei compagni d'accademia ha fatto una compagnia e grazie a questa compagnia poi ha cominciato a lavorare lui pensa che fino all'ultimo è stato sempre propositivo sempre vulcanico io stavo facendo la spesa proprio i giorni prima che lui se ne andasse e mi ha chiamato mi ha detto senti ho avuto un'idea vorrei fare cime tempestose in pugliese cime di rap tempestose è un carrello ho lasciato il carrello scusate un attimo so proietti che mi devi parlare di cime di rap tempestose cime di rap tempestose questo era gigi un genio un genio pochi giorni prima di andar via e però ecco è bello perché lui era una persona così piacevole sempre così poi non se magari non dava l'impressione non si vantava mai ma erano di grande cultura di grande gusto di grande eleganza e soprattutto ci ha insegnato a noi che volevamo fare i comici perché che andava a proietti voleva comunque fare la commedia ci ha insegnato lo stile l'eleganza come dire la classe anche nel far ridere quindi mai cose becere le risate non erano mai facili erano sempre ricercate colte erano molto particolari che bella cosa che stai dicendo bello ma tu la farai cime di rap tempestose? no lo scrivi? aveva 8000 idee 8000 idee voleva fare un hotel per esempio in cui Iago era il massaggiatore di un giocatore di calcio e per anni raccontava di questo hotel in cui hotel era un giocatore di calcio e l'allenatore era il massaggiatore era invidioso e quindi lo faceva in gelosia era pieno di idee straordinarie e stare a cena con lui non erano cene facevi colazione perché andavi a cena dopo teatro a mezzanotte luna e andavi via dal ristorante verso le 4 le 5 racconti, barzellette, progetti quindi quando il ristoratore mi sapeva che quella sera andava a dormire molto tardi si sarebbe fatto giorno come si suol dire allora e poi vedete si poi si muore purtroppo alcune persone dovrebbero avere eternità però si rimane si però si rimane quali come lui rimangono rimangono perché basta solo come tu ne parli e rimangono rimangono a tutti gli effetti come se non bastasse Monica Vitti Monica bella come la luna all'alba quando è illuminata anche dalla luce del sole cioè era tutto si ho avuto il privilegio di averla come insegnante all'accademia perché io avevo Gigi Proietti da una parte e Monica Vitti dall'altra quindi ero ben come dire avevo dei grandi maestri e Monica Vitti ci ha insegnato per esempio che i difetti di ognuno vanno valorizzati lei aveva questa voce un po' rauca in accadema inimenticabile certo la voce bellissima le avevano detto che forse non poteva fare a teatro e lei ha minacciato di suicidarsi nel caso che avessero scritto nel documento in accademia che non poteva fare a teatro di suicidarsi l'ha detto così? sì sì ha detto al medico che l'ha visitata se lei lo scrive io mi butto di sotto chiaramente Monica sto scherzando chiaramente forse stava scherzando naturalmente però l'ha convinto con questo ricatto e da lì ha cominciato una folgorante carriera anche grazie a quella voce così rauca la voce di Monica Vitti così particolare, meravigliosa, ineguagliabile e poi appunto gridava, cantava quindi quella voce non le ha mai impedito di fare quello che voleva qual è il lavoro più bello fatto con Monica Vitti? voglio che me lo dica tu beh io ho avuto la possibilità di fare con lei lei dopo l'Accademia ha chiamato me e il gruppo dei ragazzi che stavano nella mia classe per fare una trasmissione televisiva con lei che si intitolava Passione Mia con Roberto Russo esatto e lì eravamo in studio e facevamo ogni settimana una sitcom con tutti gli attori dell'Accademia con lei e con Anni Loy l'ultima puntata lei l'ha dedicata ai cortometraggi e mi ha dato l'opportunità di fare un cortometraggio come regista in cui ero anche attore e anche autore e questo cortometraggio ha avuto la nomination all'Oscar e quindi è stato è grazie a lei che ho cominciato a fare cinema e ho cominciato in maniera straordinaria perché andare agli Oscar è stata una cosa, un sogno sei bravo Pino? tu sei bravo? insomma mi do da fare diciamo sì questa è riuscita buonissima molto elegante sai cosa bisogna dire? che negli anni 80 i cortometraggi non si facevano più perché erano in pellicola costavano molto e non c'era distribuzione e quindi lei è stata la prima che a fine degli anni 80 ha rivalorizzato il cortometraggio come come occasione di conoscenza per i giovani registi i giovani talenti insomma stiamo parlando siamo passati da proietti siamo arrivati a Monica Vitti stiamo parlando di persone non soltanto numeri 1 in assoluto ma generosi cioè il concetto è quello di essere maestri generosi verso chi non ti ruberà il lavoro ma raccoglierà la tua conoscenza e tramandare gli altri tramandare, no? andare avanti allora insegnante di regia io ve l'avevo premesso però l'avevo detto che uno si sente come la pallina del flipper Andrea Camilleri e vabbè sembra uno scherzo ma è così sembra Barzelletta no? e invece Barzelletta una storia meravigliosa Andrea Camilleri Andrea Camilleri aveva una teoria sugli attori che si laureavano, no? eh, l'ha scritto pure sì ma c'è veramente tutto in un libricino ha scritto laurearsi l'unico che è riuscito a laurearsi facendo l'accademia è stato Pino Quartullo poi non è vero ci sono stati anche altri allievi dopo che si sono laureati e lui assisteva alle prove di un mio spettacolo perché io facendo regia in accademia avevo lui avevo lui in sala che ci guardava mentre provavamo e facevamo uno spettacolo di Grand Guignol in cui c'erano uccisioni decapitazioni cioè era una forma di spettacolo molto cruento e c'era un'attrice con un coltello e disse attenzione che il coltello è un oggetto che può essere letto in tantissimi modi con tantissimi simboli e quindi da allora abbiamo visto anche quel coltello con altre mamma mia accezioni diciamo altre accezioni come è elegante certo certo quindi questi erano i ti muovevi ti muovevi in quest'area e poi ho solo avuto Bolognini ho avuto una bella Cerliani Aldo Trionfo in un'accademia hai il diretto Vittorio Gasman ho il diretto Vittorio Gasman perché avevo scritto una commedia che ho proposto a Alessandro Gasman e alla sua fidanzata da allora che era Francesca D'Aloia e la lesse anche lui la fece leggere al padre una sera Alessandro Gasman mi ha detto gli deve parlare mio padre e ho detto mamma mia no perché la commedia era un po' particolare era una commedia audace e mi ha detto adesso mi sgriderà che mi sono permesso di proporre questa commedia audace al figlio e invece mi ha detto vorrei produrla io Vittorio ha prodotto lo spettacolo teatrale quindi ho avuto come produttore Vittorio in sala e poi quando ho fatto il film ho scritto un ruolo del sessuologo dove andavano in cura il figlio con la sua insomma gli hai dato un ruolo che lui si è riscritto tutto se l'hai riscritto Vittorio Gasman se l'hai riscritto e questo è stato il mio primo giorno da regista sul set ho avuto Vittorio Gasman allora poi c'è l'incontro più importante che si chiama Margherita Romanielli che non è la maestra in accademia però e molto di più è la moglie è quella ragazza che abbiamo visto felicissima accanto a accanto a suo marito chiaramente è felice il giorno del matrimonio poi con gli anni non so se ancora sarà felice questa è Maratea qui siamo in Lucania ci siamo conosciuti a Maratea e sposati a Maratea mi pare più che giusto sotto il signo di San Biagio esatto Lucania forever e lo dico alzando anche io bandiera allora voi due insieme lei non si è mai pentita di averti incontrato avete collaborato ai testi di uno spettacolo con Alessio Boni Carpe Diem esatto quindi insomma è piacevole è difficile lavorare fianco a fianco no la cosa più bella che ti possa succedere è avere una donna un partner con cui anche condividere la gioia di scrivere di creare insieme purtroppo non ci sono venuti i figli però stiamo facendo abbiamo molti animali e stiamo creando molte molte opere e anche adesso stiamo lavorando su su un testo di Malerba che è il ritorno di Ulisse e che dovrei portare in scena quest'estate con Lucrezia Lante della Rovere io e Margherita lo stiamo scrivendo insieme dunque fino al 15 maggio è al Teatro Quirino Vittorio Gasman di Roma Buoni da morire per la regia di Emilio Solfrizzi con la partecipazione di Deborah Caprioglio e Gianluca Ramazzotti e non ve lo spoileriamo eh sia chiaro bisogna andare a teatro per scoprire questo questa trama e questo lavoro però è sono quelle classiche situazioni nelle quali tu inizi e dici ah che bello e poi cominci a metterti nei panni dei protagonisti a dire e io che cosa farei se mi capitasse infatti tutti noi credo ci sentiamo un po' in colpa quando camminiamo per strada e vediamo dei barboni delle persone che dormono per terra e pensiamo sempre che potremmo fare di più di quello che facciamo no? perché noi potremmo fare tutti noi di più certo però non lo facciamo e la commedia comincia con una coppia di ricchi borghesi che la notte di Natale pensa di mettersi a posto la coscienza andando a portare i panettoni ai barboni sotto il colono di San Pietro tra l'altro per carità cosa ottima esatto però finché si tratta di dare qualcosa dare una lemosina allora va bene quando si tratta poi di accogliere perché questo è il vero poi senso della carità cristiana credo cioè non soltanto dare lemosina ma anche accogliere l'altro il diverso che è difficoltà si trovano improvvisamente con un barboni in casa perché quando cade un bigliettino da visita a lui io lo raccolgo e mi accorgo che lui è il mio compagno di classe io ero compagno di classe dei due della coppia e vai a bussare alla porta quindi con situazioni molto comiche molto divertenti potete immaginare lo vediamo lo vediamo qua qui al cuorino con Solfrizzi e con la nostra costumista e devo dire che ecco è una commedia che fa tantissimo ridere perché io entro come un animale in casa sporcando facendo qualsiasi cosa però fa molto pensare però poi dopo lui io vado un po' ritroso perché vado in bagno mi tolgo come dire tutta questa corteccia che mi sono costruito e rivediamo una persona come era e quindi è come una favola come un sogno di ritrovare un amico che si era perso e che viene ritrovato e lì dobbiamo capire che cosa siamo pronti a fare no? semplicemente andare a teatro a teatro Quirino fino al 15 maggio a vedere Buoni da Morire sono arrivati dei messaggi Pertino Quartullo va bene facciamo finta che siano vi racconto un piccolo dietro le quinte e prima lui se n'è accorto che ci fosse questo messaggio no? in circolazione ma è così bravo da simulare tra poco oh sorpresa va bene chi è arrivato a salutare Pino Quartullo? questo è un test va bene lo faccio ciao Pino lo so che stai lì da Paola saluti ti volevo mettere un po' in guardia perché fai attenzione mangia i bambini ma non è vero e poi non li cucina neanche tanto bene è un scherzo non è vero volevo salutare a tutte e due ciao Pino ciao saluzza un bacio a entrambi più a saluzza che a Pino un bacio a Pino magari bella pacca sulle spalle ciao che carino Giobbe Covatta meraviglioso allora grande autore è comico ma anche un grande autore perché io ho recitato con lui abbiamo fatto uno spettacolo insieme e ha una capacità di di indiretta di cambiare le battute che se non stai attento rischi di trovarti molto spiazzato è anche un grande amico è un grande uomo molto generoso e non lo sappiamo lui ha fatto grandi cose per gli altri lui ha fatto molto è buono da morire anche Giobbe lui è buono bravo Pino lui è buono da morire allora e li abbiamo visti insieme in fotografie in Hollywood Burger dunque Ubaldo ed Emma papà e mamma io avevo detto Emma 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 è un nome che tornerà perché ridendo e scherzando la vostra e qui cito la cara splendida Elena Sofia Ricci a cui mandiamo un bacio la vostra Emma adesso è Emma grande eh sì è grande questo è il giorno che sei laureata cioè ha 26 anni ci ha messo un po' a deciderlo ma adesso sembra che voglia fare l'attrice veramente si è laureata in cinema ha fatto già delle esperienze ha fatto Don Matteo ha fatto teatro ha fatto uno spettacolo bellissimo a dicembre in cui faceva sei ruoli quindi sono molto orgoglioso come padre perché anche molto brava ma tu oltre che crescerla in cività vecchiese stretto perché loro tra papà e figlia si parlano in cività vecchiese stretto sì quando andiamo all'estero soprattutto così capiscono ancora ancora meno se ci sono italiani non capiscono quello che stiamo dicendo è il linguaggio del teatro il grande linguaggio dell'arte allora diciamo che come Natali lei è perfetta ma Emma ovviamente è dedicato a nonna a mia madre a mia madre che a sua volta aveva una nonna che si chiamava Emma ok infatti quando era una Sofia aspettava appunto Emma l'arrivo di questa bambina il nome Emma nel 2006 non era in voga dopodiché non so se in qualche modo anche per colpo nostro da lì in poi Emma è un nome che poi ha circolato molto di più è un bellissimo nome tra l'altro Emma è nata la notte degli Oscar la notte degli Oscar 25 marzo e quella notte Emma Thompson vinse l'Oscar allora sentite qui la vedete in una foto opportunity con il papà quando Emma mostrava i dentini caduti e tu accanto ti divertivi giustamente con lei però ecco tu sei in qualche misura anche responsabile pienamente e splendidamente responsabile di quest'amore di Emma per il teatro il che non vuol dire puoi essere figlio di grandi attori e non cavare un ragno dal buco dal punto di vista recitativo non è così per Emma però l'avete allenata ad amare il teatro no? abbiamo portata molto spesso al teatro e lei veniva volentieri e già quando appunto quando lei faceva i primi passi io già le facevo fare i nani andava dietro una tenda io chiamavo cucciolo, brontolo, dotto lei usciva e faceva e là avevamo capito che già c'era già c'era predisposizione allora io torno a quella predisposizione Pino intanto ti ringrazio tantissimo perché questa è stata una chiacchierata bella con te si chiacchiera volentieri si parla volentieri è stato molto bene e ringrazio anch'io voi insomma ti abbiamo ci tenevamo ad avverti ci tenevamo ad avverti il talento uno non può salire in cattedra e dire che cosa sia il talento però chi voglia intraprendere questa carriera deve sentire dentro di innanzitutto di volersi migliorare tutti i giorni ma anche bisogna avere una fiammella se non è un incendio come poter stato per te no? iniziare la cosa che io credo sia più importante è veramente il desiderio di volerlo fare perché è molto importante che sia al primo posto della tua vita questo lavoro perché se si può fare qualcos'altro è meglio fare qualcos'altro ma se uno vuole veramente il talento poi viene perché noi abbiamo visto da Monica Vitti a Marilyn Moro che da ragazze non erano così belle la volontà di arrivare di realizzare dei personaggi di farsi conoscere di migliorarsi può portare veramente a dei cambiamenti enormi quindi prima di tutto non è tanto il talento in sé per sé che certo è necessario ma è la volontà è la volontà ci sono attori che avevano delle semi paresi e hanno fatto delle carriere folgoranti ci sono persone che nella vita potrebbero essere attori o attrici straordinarie ma non hanno voglia di farlo e quindi lo farebbero anche male perché non gli interessa la voglia di poterlo fare è la cosa più importante e quando in accademia Silvio D'Amico faceva una domanda a trabocchetto diceva cosa farebbe lei se non dovesse essere preso in accademia se questo diceva fare l'ingegnere il medico non veniva preso perché la risposta doveva essere questo e nient'altro questo e nulla più perché è una vocazione che richiede un'attenzione una dedizione una pazienza perché non è tutto rosa e fiori il nostro lavoro specialmente in questi anni però la volontà di poterlo fare è quella che ti fa crescere ti fa capire ti fa stare attento ti fa diventare più magro più bello più tutto e quindi importante è il desiderio di raccontare raccontarsi con questo lavoro quindi il talento è una pianta che noi dobbiamo aiutare a diventare grande questo conto se vuoi fare questo lavoro che Pino Quartullo fa splendidamente grazie di essere stato con noi grazie grazie Pino grazie davvero grazie